salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi alleneremo le gambe ragazzi con lo squat 72 kg come siamo rimasti la volta scorsa siamo aumentati a 72 kg faremo sempre un 4 serie per 5 almeno ci troviamo io non lo so adesso se ci riesco questa volta ci dovrei riuscire se tutto procede come deve però non si sa mai ragazzi come sempre ovviamente andiamo prima a pesarci e poi ovviamente prima serie di squat 59 punto 70 kg grassa corporeo 13,4 siamo aumentati di 0.5 kg e la massa grassa è rimasta uguale a prima ne è cambiato niente ovviamente la sedia ragazzi è già da questo numero qui faremo 3 serie per un minuto con 5 kg sulle gambe grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ragazzi terzo esercizio abbiamo la legge station questa volta la faremo a gamba singola più a serie doppia gamba vi spiego faremo 4 serie ovviamente per 10 ripetizioni per gamba più super serie 5 ripetizioni a gambe insieme vi farò vedere poi nell'esercizio come viene ci vediamo proprio l'esercizio a Adesso leggarle, faremo 4 serie per 10 ripetizioni, ovviamente normale, non a gamba singola, faremo con 32 kg, scusate, non 35 perché non so se ce la faccio ancora, facciamo ancora 32, 4 per 10. Ovviamente non possono mancare polpacci, cut machine con miraggiare sulle spalle, 70 kg, 3 serie per 15 ripetizioni. Musica Eccoci qua, siamo pronti per gli abdominali, ovviamente. Faremo come primo esercizio gambe alzate, poi faremo i laterali e infine faremo i addominali bassi. Ovviamente comincieremo con il carlo a gamba alzate, faremo 3 serie per 20 ripetizioni. Musica 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 raga questo esercizio fa troppo male lo potete fare quante volte volete anche una cinquantina di volte ma mi ucciderà sempre è uno degli esercizi per addominali laterali più mortali che abbiamo fatto in vita mia una cosa veramente durissima adesso passeremo gli addominali bassi andremo a fare le braces sulla panca tipo con un pesetto tra i piedi 3 kg una roba così farò vedere l'esercizio già l'avrete visto ragazzi ci vediamo con l'esercizio un'esercizio allenamento terminato adesso ragazzi vedrete il check fisico e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao 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 ciao